in questa edizione di ballando con le stelle il livello è davvero molto alto e alcuni concorrenti stanno dimostrando di avere un vero talento innato per il ballo una di queste è la bellissima federica nargi che accanto al maestro e partner luca favilla sta dando vita a performance incredibili frutto di predisposizione impegno e fatica questa esperienza è una grande opportunità per federica ma non esclude le difficoltà che sta affrontando per viverla a pieno in una recente intervista a chi federica nargi ha parlato delle difficoltà che la sua famiglia sta affrontando a causa della sua allontananza legata sentimentalmente al calciatore alessandro matri dal 2009 con il quale ha due figlie federica ha rivelato che lasciare le bambine a milano è stata la cosa più difficile la lontananza si fa sentire e le figlie iniziano a chiedere di lei soprattutto la più piccola beatrice federica ha cercato di far capire alle figlie che la mamma lavora e che questa esperienza servirà loro per imparare che per realizzare un sogno bisogna crederci e lavorare nonostante le difficoltà federica ha potuto partecipare a ballando grazie al supporto del marito dei suoceri e dei genitori durante l'intervista è stata ipotizzata una una certa gelosia da parte di alessandro matri nel vedere federica ballare con luca favilla tuttavia federica ha smentito queste voci ribadendo il forte legame che la lega al marito ballando con le stelle è un'opportunità per federica di superare i suoi limiti e restare in questo mondo ma le sue figlie saranno